ciao ragazzi benvenuti qua sul mio canale io sono vivo libero allora ragazzi vi volevo dire questo io ho messo gli abbonamenti sul mio canale non sono obbligatori ok chi vuole può abbonarsi per seguirmi chi si abbona avrà delle cose sia in omaggio che ad esempio video pubblicherò dei video magari solo per gli abbonati comunque io continuerò a fare gameplay e altri video blog che potranno vedere tutti gli abbonamenti voglio solo spiegarvi servono per aiutare il canale ok quello che io guadagnerò sarà pochissimo non sarà tantissimo lo utilizzerò per il canale per acquistare delle attrezzature per acquistare nuove parti del computer e per riuscire a fare sempre il meglio per per voi ok mi servirà per portare altri videogiochi mi servirà per tantissime altre cose quindi io l'unica cosa che vi posso dire è aiutate il canale per aiutarlo basta poco gli abbonamenti non saranno costosi di prezzi sono ho messo due tipi di prezzi decisi automaticamente da youtube perché è youtube che stabilisce la quota e tu hai solo da decidere su alcune foto quindi non puoi stabilire tu realmente la quota quindi non è obbligatorio cioè se voi non vi pubblicate cioè se voi non vi abbonate non capita che non potete vedere video o cose del genere di video li potete vedere tranquillamente non vedrete solamente quei video destinati ai ehm agli abbonati eh per vedere quei video lì dovrete essere poi per forza abbonati ehm altro io non non ho da dire cioè io vi chiedo solo questo per favore se volete aiutare il canale e fare in modo che io posso portarvi altri videogiochi e cercare di farvi divertire sempre di più per favore aiutatemi e basta abbonarsi e automaticamente facendo questo io posso anche cercare di migliorare le cose e portarvi anche delle live vere e proprie ok volevo solo dirvi questo mi raccomando ragazzi tanti bei like sotto i miei video condividete e se volete abbonati ok ciao ragazzi al prossimo video